La telefonica intanto Si marcia piedi fuori dagli spazi mettendo in difficoltà il passaggio degli autobus Se il sindaco Giordani non tiene alta l'attenzione sul salotto buono della città il pericolo è quello di trovare nuovamente auto parcheggiate ovunque e sarebbe il caos Nuovamente perché il fenomeno si era già verificato e con l'indignazione dei cittadini era arrivata anche l'istituzione della zona pedonale nelle piazze provvedimento temporaneo che scadrà il 31 marzo Impedire all'automobili o ai furgoni di fermarsi ovunque anche con il rischio di danneggiare monumenti e strade secondo molti cittadini deve essere un provvedimento definitivo L'epoca della sperimentazione è finita e il sindaco deve tenere conto del fatto che tra le deroghe e lo spegnimento in alcuni orari dei varchi con le telecamere la situazione può degenerare Ne va della vivibilità del centro che alla sera può trasformarsi in caos E non parliamo solo delle piazze ma anche di altre vie centrali come via San Francesco, via del Santo, via Zabarella oltre alla zona del Duomo In piazza delle Erbe, proprio sotto le finestre del municipio, il fenomeno è più evidente L'amministrazione dovrebbe ripristinare ad esempio i paletti in ferro che impedivano il parcheggio lungo il perimetro della piazza studiare altri provvedimenti, ovviamente senza svuotare il centro che deve rimanere a disposizione di tutti